Mario Titone, una vittoria importantissima oggi per l'Assemblea, prima del 2016, subito dimenticato il pareggio con la Fermana. Sì, abbiamo fatto una gran vittoria, era difficile vincere su questo campo, ci siamo riusciti, ancora non abbiamo fatto niente perché il campionato è ancora lungo, quindi dobbiamo continuare su sta strada e volare bassi perché ancora è molto a lungo, quindi le squadre ci faranno la guerra e ci vuole calma. Per te anche l'occasione con il gol del 2-0 per dimenticare l'errore con la Fermana? Sì, ho fatto un errore con la Fermana, ci sta, il calcio è questo, oggi mi è ricapita la palla, sono scivolato, però non si può fare, sbagliano anche i grandi campioni, anche ieri vedendo la partita a Roma-Milan succede anche a loro, quindi non mi sono fermato lì, quindi ho cercato di giocare, non pensare a niente e poi alla fine il gol è arrivato. Anche perché poi giocare in questo campo non era affatto facile? No, è un campo difficile, non si stava in piedi, quindi abbiamo fatto una vittoria veramente grande, grande, grande vittoria credo. Grazie.